È la cultura del provvisorio. E questo succede dappertutto, anche nella vita sacerdotale, nella vita religiosa. Il provvisorio è... e per questo una grande maggioranza dei nostri matrimoni sacramentali sono nulli. Perché loro dicono sì per tutta la vita, ma non sanno cosa dicono. Una signora una volta a Buenos Aires mi ha rimproverato. Ma voi preti siete svelti, eh? Perché per diventare preti studiate otto anni. I laici, che dobbiamo fare il sacramento per tutta la vita. È indissolubile. A noi, i laici, ci danno quattro conferenze. E questo per tutta la vita. Per me uno dei problemi, questo che tu vuoi, è la preparazione al matrimonio. Grazie. Grazie. Grazie.